Ben ritrovate amici di Gilda TV, l'associazione docenti articolo 33 dopo tre anni dalla fondazione e di organizzazione di convegni culturali sulla scuola oggi si propone come ente formatore. Ne parliamo col presidente, professor Fabrizio Rebeshek. Allora finalmente dopo tre anni di attività e di convegni nazionali fatti in tutta Italia su temi della scuola l'associazione docenti articolo 33 è stata riconosciuta dal ministero come ente di formazione. È un'opportunità che noi abbiamo non solamente come associazione in sé ma per tutti i docenti di utilizzare uno strumento giuridico nuovo e differente. In che senso è un'opportunità? È un'opportunità soprattutto adesso dopo l'operazione della buona scuola con la quale ci sono delle ore di formazione obbligatorie. Allora piuttosto che i docenti siano costretti a subire delle forme di formazione obbligatoria gestita da altri e dai soliti enti di formazione che sfruttano i docenti stessi per farsi business noi vorremmo che fossero i docenti di utilizzare questo strumento giuridico per fare la loro autoformazione. Noi siamo per una formazione professionale che abbia la capacità di coinvolgere i docenti come formatori di si stessi. Il docente non deve essere solamente passivo ma anche è un soggetto attivo nella formazione. Noi invitiamo tutti i colleghi perciò a informarsi sulla situazione stessa e a iscriversi. Tutti coloro che sono già della Gilda sono iscritti di diritto basta che lo vogliano. Gli altri possono fare una semplice iscrizione. Trovate sul sito www.associazionedocentiarticolo33.it tutte le informazioni. Confidiamo che sia un'opportunità che i docenti italiani, a prescindere dalla loro appartenenza sindacale e politica, possano sfruttare. I vostri formatori sono insegnanti? Devono essere insegnanti perché non possiamo solamente rivolgerci ai soliti formatori di professione. Noi intendiamo che se abbiamo i problemi in matematica, siano insegnanti in matematica che sappiano fare una autoformazione e faccio dei progetti sulle buone pratiche della matematica. Non il docente di matematica dell'università che viene a dirci come insegnare quando lui non sa insegnare nemmeno all'università. Beh, c'è da sperare che non diventi il solito ente speculativo. E questo è il nostro sogno. Speriamo, sappiamo perfettamente che è un mercato molto complicato e molto complesso. Non ci vorranno molto bene, però noi ci siamo e li sfidiamo a essere seri come noi. Grazie professore. Ricordiamo che per vedere e ascoltare il mondo della scuola in tempo reale basta un clic su iscriviti.